1923-2023, il centenario degli antichi comuni milanesi. Uno di loro è Afori, dove siamo qui oggi insieme al nostro caro Walter Cherubini. Ciao Walter e benvenuto. Buongiorno a tutti e buona giornata ai telespettatori. E siamo in un luogo storico, Villa Litta, ad Afori e in particolare oggi in biblioteca. Perché siamo qui e che cosa ci aspetta dall'incontro odierno? Allora, Afori è uno degli undici comuni cosiddetti con termini che appunto il 14 dicembre 1923 vennero aggregati a Milano. Villa Litta è uno dei monumenti storici di quello che era l'antico comune di Afori. Comune di Afori che era abbastanza composito, se lo vogliamo paragonare a quella che è la situazione attuale. E quindi c'è il comune di Afori che in precedenza nel 1869 aveva aggregato i comuni di Bruzzano e Dergano. E poi abbiamo anche altri, diciamo così, toponimi o aree che sono Derganino, appunto Dergano, Bovisa, Bovisasca, Comasina, appunto assieme a Bruzzano. E Afori ha avuto rispetto alla situazione storica precedente un'evoluzione perché pensiamo che ai tempi era diviso tra le pievi di Bruzzano e la pieve di Bollate. Abbiamo poi il nostro ospite che suggerisce, quindi abbiamo un po' una preview. Sicuramente, il nostro Luigi Ripamonti che è... Dovevi dire, dovevamo lasciare un po' la suspense. Quindi presentalo subito. Va bene, facciamo una pre-suspense e quindi Luigi Ripamonti che sicuramente è la memoria storica e di Afori e non solo, ma proprio è quello che noi definiamo gli storici locali. Storici locali di questa storia di Milano che non è assolutamente conosciuta. Abbiamo raccolto quasi cento libri di autori locali, di storici locali che parlano di quartiere, antichi borghi, ma noi milanesi non conosciamo Milano nella sostanza. E questo qui è il dato che poi porta a avere uno squilibrio anche amministrativo negli interventi che vengono fatti. E proprio cento anni fa, che cos'è che è avvenuto? E che l'allora comune di Afori, con il suo sindaco e la sua giunta, è stato sostanzialmente cancellato e tutte le competenze sono passate a Palazzo Marino, in Piazza della Scala. E da lì vedere quello che oggi accade ad Afori, come anche il sindaco di allora, il Luigi Mangiagalli, diventa difficoltoso, ma obiettivamente per una questione organizzativa. Ecco, noi cento anni fa abbiamo avuto un cambiamento drastico, che ha avuto degli elementi positivi sicuramente, se Milano oggi è una città attrattiva, lo si deve anche alle scelte di cento anni fa, ma nello stesso tempo ci stiamo portando dietro ancora quelle criticità di non avere un'amministrazione vicina, che cento anni fa c'era, e anche più di cinquant'anni fa si era cercata di introdurre con il decentramento i consigli di zona. Quindi oggi faremo un incontro tra la storia e l'attualità, e siamo qui proprio in questa bellissima sala della biblioteca a Villa Litta, ad Afori, che è la sala della memoria storica, e quindi con noi l'ospite che abbiamo spoilerato prima, lo storico Luigi Ripamonti. Grazie mille di essere qui con noi. Grazie a voi e buona giornata. E l'elemento interessante è che lei è storico, quindi racconta la storia, ma lei stessa ha una testimonianza storica, perché possiamo dirlo, ha 92 anni, giusto? Un secolo di storia del mio quartiere quasi, non è che me l'abbiano raccontato, però l'ho vissuto. In più l'ho ricercato, studiato, letto, insomma mi sono appassionato perché le mie radici sono qui, il mio cuore è qui. E quindi direi che ci possiamo sedere? Sì, sì, prego. Così ci può dare una panoramica, fare un breve scorso storico di questa parte di Milano-Affori, che come dice giustamente Cherubini, molto spesso i milanesi stessi non conoscono. Esatto, è per questo che in questa sala della memoria, della memoria locale storica, abbiamo unito la storia di Milano e la storia di Affori. Perché? Perché Affori non è un'isola e la storia di Affori non è a sé, ma era convissuta con la storia di Milano, intresciata con la storia di Milano, fino ad arrivare poi all'aggregazione anche amministrativa, veramente come diceva il suo Cherubini, nella grande città di Milano. Ecco, giustamente sentivo il suo Cherubini che diceva che è stato un fenomeno amministrativo, infatti, e questo l'ho specificato nel mio libro, qui in Affori il fatto dell'aggregazione è stato vissuto con molto contrasto, perché Affori era un comune molto ricco, ben amministrato, ben organizzato, e veniva dalla, diciamo così, dalla sua grandezza e dalla sua importanza, perché prima erano Affori uniti, convogliava l'amministrazione di Dergano, Bruzzano, fino a Bresso e quindi parte della Bovisa, quindi era un assieme, era diciamo così un comune con l'aggregazione di altri comuni. Perché? Perché Affori aveva una buona organizzazione, una buona amministrazione, dovuta, diciamo così, ai proventi che arrivavano dalle tasse che pagavano i proprietari terrieri e tutti i nobili di Milano che avevano le ville qui da noi, compresa Villarito, dove siamo adesso noi. Per cui è stato un fenomeno molto contrastato, anche perché dopo hanno capito, hanno visto che il fatto di essere stati aggregati amministrativamente a Milano però ha lasciato un po' a bocca asciutta la periferia, in quanto la dirigenza, diciamo così, gli ordini e le disposizioni arrivavano dal centro. Qui la periferia, pur essendo amministrativamente città, però dal punto di vista dei servizi pubblici, assistenza, trasporti, eccetera, rimaneva comunque sempre periferia. Ecco, questo marchio, diciamo, di area periferica è sempre rimasta. Era un po' un orgoglio degli afforesi, perché noi ci sentivamo afforesi di Milano, non milanesi di afori, perché è diverso. Perché avevamo una storia, una storia millenaria. Afori già esisteva ai tempi dei romani, qui abbiamo trovato dei reperti sarcofagi, eccetera, abbiamo reperti che ci conducono alla nostra storia che si perde nelle nebbie di secoli. Documenti che parlano di afori sono ancora prima del mille. Per cui gli afforesi erano orgogliosi di aver costruito col sacrificio, con molto impegno, la propria storia. E quindi si sentiva, non si sentiva città. Della città era sempre questo senso di dipendenza, perché, non dico schiavitù, però era una dipendenza che poi a un certo momento è diventata anche dipendenza amministrativa. Per cui è stato snaturato tutto quello che poteva essere l'autonomia di gestire la propria vita con la cultura contadina e artigiana che avevamo, inglobandola in una cultura cittadina che invece era già con la grande industria, il commercio, la finanza, eccetera. E questo contrasto non solo amministrativo, ma anche culturale, noi l'abbiamo sentito. Adesso io parlo di quello che ho sentito ai miei nonni, e quindi non vado indietro tanto. E quindi il racconto proprio live dei miei, quindi anche sul libro io descrivo molte cose, prese dai documenti, ma soprattutto anche dalla viva voce di quelli che l'hanno vissuta. Quindi effettivamente per noi è stato un po' un trauma, in questo senso, perché la nostra cultura contadina e artigiana ha subito un po' uno shock, passando da l'Affo riuniti, che si dava un senso anche di orgoglio, su Tafores, andiamo a Milano, andiamo in città, andiamo a Milano, cioè non ci sentivamo milanesi, sentivamo periferia di Milano, sentivamo Afri e Uniti. Quando andavamo a Dergano, era una frazione di Bruzzano, che a suo tempo è stato capopieve, quindi avevamo una dipendenza, non solo dal punto di vista religioso, ma anche dal punto di vista amministrativo e culturale, è poi diventata la nostra frazione. Quindi se ha questi contrasti, questi mettersi a confronto con il passato, per noi quelli di Bruzzano, di Vergini, i forest, noi venivamo uno di Bruzzano, che è più forest, per dire no, non siamo nel mondo di adesso, della globalità. Poi noi la globalità finiva lì, dove finiva Afri, ecco, i nostri terreni, le viune di nostri, ecco, questo era, diciamo così, il sustrato, dell'animo e della periferia nostra, e poi, e un primo trauma, che secondo i miei nonni l'hanno sentito molto, è stato lo sbalzo molto forte, che dalla veloce e rapidissima industrializzazione della zona. Per cui, dovuta, diciamo così, alla situazione geografica e territoriale, perché qui era una zona molto ricca di acqua, le risorgive, i pozzi artesiani, eccetera, per cui, dove si poteva, diciamo così, iniziare un fenomeno, di industrializzazione di massa, insomma, è proprio qui, perché col bisogno di acqua che c'era, per cui, Bovisa, Dergano, Afri, sono stati proprio il primo centro della industrializzazione, che ha cosa comportato? Vari problemi, molto complicati per noi, molto difficili da affrontare, il problema dei trasporti, il problema dell'immigrazione, in mano d'opera, in mano d'opera, in mano d'opera, mano valanza, eccetera, che arrivava, in mano d'opera che poi era stanziale, non solo i pendolari, stanziale, quindi, assistenza, l'abitazione, i trasporti, le vie di comunicazione, e quindi Afri ha avuto da affrontare nel giro di pochi decenni problematiche che, insomma, altri borghi non hanno avuto, quindi è una storia molto diversa, la nostra da, non so, andare in altri borghi, molto diversa da Chiaravalle milanese, che è un borgo che è rimasto, legato all'abbazia di Chiaravalle, tale era e tale sostanzialmente è rimasto, con qualche piccola diversificazione, mi sembrava che Ripamonti introducesse un concetto di periferia, esattamente, noi partiamo cento anni fa, nel momento in cui spariscono i comuni limitrofi, e quindi vengono aggregati a Milano, questi comuni diventano dal punto di vista geografico, ma anche dell'impostazione amministrativa, periferia, cioè perché tutto è portato amministrativamente al centro, e le caratteristiche della periferia in generale europea, anche secondo quello che era il libro bianco della Commissione Europea del 2001, sono due, uno, appunto, la mancanza dell'organizzazione amministrativa adeguata, qui è stata portata via, e quindi è uno degli elementi della periferia. Invece l'altro è quello dell'identità, ma l'identità, appunto Ripamonti sottolineava questo aspetto al di là dei muri, dei luoghi, ma delle persone, e per esempio, Afori è conosciuto da tutte le parti, perché c'è la banda d'Afori. Allora la banda d'Afori non è solamente così un'icona, ma suona da metà del 1800, e è una storia di persone, che attraverso la loro espressione musicale, però hanno anche vissuto dei periodi, e anche le canzoni che hanno fatto, molto spesso si sono legate ai periodi storici, magari anche in maniera critica, con questa aureola di musicalità, però facevano passare determinati messaggi. Ecco, allora è importante proprio riconoscere questi aspetti, che sono quelli che ha declinato Ripamonti, di storia, di identità, ma attraverso, non un ricordo lontano, ma presente, Ripamonti oggi è presente, è presente la banda d'Afori. Come da altre parti, abbiamo la banda di Crescenzago, piuttosto che la croce verde, Musocco oggi Sempione, piuttosto che la croce verde di Baggio. Quindi andando verso la conclusione di questa prima parte, in versione della storia, chiedo a Ripamonti se vuole concludere magari con un ricordo. Ne ha troppi? Così, ne ho troppi, ne ho troppi perché io li ho scritti sui libri, sui quotidiani, eccetera. Ricordo, diciamo, Afri ha avuto, volevo prima sottolineare un aspetto, quando c'è stato il decreto, il reso esecutivo il 14 disembre del 23, Afri l'aveva preso molto male, tanto è vero che il Consiglio non aveva fatto un forte contrasto con l'amministrazione centrale, per cui hanno dovuto fare il 30 settembre un altro decreto per imporre ai consiglieri di cessare qualsiasi attività, almeno per Afori, perché c'è stato una specie sommosa, il Consiglio non aveva accettato di buon grado, non voleva sciogliersi, ha dovuto fare il commissario straordinario, Mazzucchelli, per cui era l'unico borgo, gli altri avevano accettato tutti, anzi, vabbè, vabbè, questo, poi c'è andata la banda d'Afori, la banda d'Afori è nata da un complessino che suonava in matrimoni, nelle balere, qui di Afri, ed era l'espressione, diciamo, della passione musicale che c'era in Afri, e da lì poi ad aggiornarsi si è formato il complesso musicale e ha avuto modo di rendersi famosa perché era parte integrale, diciamo, della vita contadina e della cultura, diciamo, dei nostri nonni, per cui la musica l'avevano nel sangue i nostri nonni, proprio perché ha contatto con la natura, qui era una popolazione totalmente contadina, contadina con la natura, feste, feste, per cui erano alietate da questa musica, dalla passione musicale che avevano, e nel festeggiare i loro, poche volte che davano sfogo alla loro gioia, che poi durante l'anno era, questa era la popolazione, era tutta, diciamo così, applicata nei lavori dei campi, ecco, per cui la banda d'Afri è sempre stato un simbolo, non tanto come banda così, ma come la passione e questa allegria di comunità che ha sempre avuto, quest'anno facciamo i 170 anni, io mi sento della banda perché da piccolino, avevo mio zio che era nella banda e io seguivo la banda, quindi quasi i 100 anni della banda, perché ho sempre avuto cuore a questo complesso che è stato reso poi famoso. Ecco, è un ricordo, il ricordo è, ricordo purtroppo un po' tragico del bombardamento che ha ferito Afri a morte, abbiamo avuto molti disastri, molte morti, io stesso, Seconda Guerra Mondiale, giusto? Seconda Guerra Mondiale, sì, adesso papà alla casa, eccetera, questo è un brutto ricordo, però un bel ricordo, qui mi sono sposato, qui ho avuto tutti i miei affetti e le mie amicizie, e soprattutto qui ho molti amici, perché si possono fare amici, perché qui nella periferia ci sentiamo ancora un po' paese, e allora nei vecchi cortili, ancora non nei nuovi condomini, ma dove non ci conoscono, nei vecchi cortili ci sono ancora le vecchie parentele, le cortili di Usculati, quelle della Zanoli, quelle della Tè, erano piccole comunità in seno in seno al comune. E' rimasto questo, questo è detto, anche l'accordo di Panser, l'accordo di Restè, l'accordo di Usculati, afforia ancora un sustrato, diciamo che non vuol morire, perché è troppo radicato nell'animo, più che proprio nell'amministrativa, diciamo così, nell'esteriorità. Ecco, amicizia, questo clima, diciamo, clima, che sa di paese. Grazie davvero, ringraziamo davvero Ripamonti, e adesso passiamo dalla storia, all'attualità, sempre però lungo il filo dell'identità. Affori Oggi, chi ce lo può raccontare meglio di Antonella Mazzei, presidente del Comitato dei Cittadini di Affori, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi per questa opportunità, che dire, noi del Comitato Cittadini Affori, siamo una realtà molto giovane, abbiamo iniziato a fondare questo comitato un anno fa, quindi abbiamo un anno di vita, siamo piccolissimi, e il nostro obiettivo è quello di far sì che Affori, rispettando la sua storia, perché appunto noi abbiamo qui un grande amico del Comitato, che è Luigi Ripamonti, e da lui abbiamo appreso tantissimo, Affori si proietti però verso il futuro. Questo quartiere è sempre stato un quartiere molto accogliente, con tutti, infatti io non sono di origine afforese, sono venuta 40 anni fa a studiare qui a Milano, e qui mi sono sentita a casa, come penso si sentano a casa tutti quelli che vengono in questo quartiere, appunto perché ha mantenuto questa caratteristica, questa peculiarità di piccolo paese, piccolo borgo, dove ci si conosce un po' tutti, e dove veramente si entra a far parte di una famiglia. E poi non dimentichiamoci che è un bel quartiere, perché è molto verde, ci sono tanti servizi, e quindi è piacevole vivere in questo quartiere. Noi ci proponiamo come Comitato di far sì che questo quartiere sia sempre di più al servizio dei cittadini afforesi, sia di quelli che sono nati ad Affori, ma di quelli che vorranno venire a vivere in questo quartiere, perché è un quartiere in espansione, mantenendo però sempre quella che è la sua peculiarità, di un quartiere che è nella Grande Milano, ma è soprattutto un quartiere dove si sta bene, si è accolti, perché questo è il nostro primo obiettivo. Afforesi di Milano. Afforesi di Milano, come dice Luigi. Afforesi di Milano. Questa mi sembra di cogliere anche una volontà di restituzione da parte sua. Lei è venuta, si è sentita accolta, e adesso il suo protagonismo civico, la cittadinanza attiva, perché questo è quello che fa, è ridare un po' quello che lei ha ricevuto. Certo, perché diciamo che è importante darsi da fare e cercare di collaborare con le istituzioni, perché noi collaboriamo, anzi ringraziamo il Municipio Nove in questo momento, perché ci sta dando effettivamente tanto supporto, vista la nostra inesperienza, anche perché ovviamente noi siamo delle persone che non abbiamo assolutamente, diciamo, un'esperienza tale, è nato tutto spontaneamente da parte di volontari, che fanno altro, altre attività. Però ecco, noi vorremmo proprio contribuire, dialogando con le istituzioni, dialogando con le altre associazioni, perché non dimentichiamo che questo quartiere, nel suo interno molte associazioni che lavorano e con le quali noi ovviamente cerchiamo di collaborare, per rendere sempre più bello questo quartiere, sempre più vivibile, e per fare in modo che i cittadini veramente si sentono tutti a casa in questo quartiere. Infatti ringraziamo anche le altre associazioni, ce ne sono tantissime nel quartiere, c'è Aquilone, c'è La Caritas, c'è Meta Educazione, c'è Lampi Afori, che collabora sempre anche con noi, ma spero di non aver dimenticato nessuno, di non far torta a nessuno, ma ce ne sono veramente tante, e c'è Asco Afori, che è un'associazione commercianti, che ci supporta in tante iniziative, insomma, è uno quartiere vivo, e noi vogliamo mantenerlo sempre più vivo. Grazie mille, direi che più di questo non si può... Ci sono degli aspetti, legandoci alla questione amministrativa, recentemente, nel marzo scorso, i comitati di quartiere, che sono una decina del Municipio 9, proprio per la relazione che hanno con il Municipio 9, hanno scritto una lettera al Sindaco, agli assessori competenti, per appunto chiedere che, in questa logica di città policentrica, annunciata, ma poi bisogna vedere se è realizzata, e viene realizzata se c'è anche una amministrazione policentrica. Quindi oggi noi abbiamo i municipi, che sono un po' delle scatole da riempire, e che sono invece l'elemento trainante, se noi vogliamo proprio valorizzare quel tema che si diceva la periferia, ma la periferia, che non è più periferia, se diventa città policentrica. Per avere la città policentrica, come hanno chiesto i comitati, i municipi devono diventare un organo amministrativo con le facoltà di governo del territorio, come era stato previsto negli anni 68-69 con l'introduzione del centramento. Quindi, se vogliamo che la periferia rimanga ancora lontana, dobbiamo mantenere i municipi così come sono. Se invece vogliamo una città policentrica, i municipi devono assumere quello che era stato pensato più di 50 anni fa per il decentramento amministrativo con gli allora consigli di zona e oggi i municipi. Sì, sì, infatti ringraziamo Cherubini che effettivamente diciamo che questo è un nostro obiettivo. Stiamo questa unione di comitati, come la chiamiamo noi, che si propone proprio di far sì che, vista l'ampia collaborazione che abbiamo col municipio, il municipio abbia veramente i poteri per poter dare un contributo fattivo alla zona. E questo è quello che noi di Focus Periferie ci auguriamo a ogni puntata. Io ringrazio tantissimo i nostri ospiti, Ripa Monti, Tonnella Mazzei, il nostro Walter. Grazie mille, venite a, se non lo conoscete, a farvi un giro ad Affori.